Giornalisti, vittime o carnefi. Il conflitto israelo-palettinese è uno dei più antichi e complessi del mondo. È un conflitto che ha causato dolore e sofferenza a milioni di persone, e che non sembra avere una fine in vista. In un conflitto così complesso, è importante che i giornalisti riportino la notizia in modo imparziale e accurato. Purtroppo, questo non sempre accade. Alcuni giornalisti presentano una versione unilaterale del conflitto, che vede Israele come la vittima e la Palestina come l'aggressore. Questo tipo di reporting è dannoso perché contribuisce a alimentare l'odio e la violenza. In un articolo pubblicato di recente, il giornalista palestinese Ali Abunima ha criticato il modo in cui i media occidentali hanno riportato la recente escalation del conflitto. Abunima ha affermato che i media hanno dato una copertura sproporzionatamente negativa alla Palestina, e che hanno ignorato o distorto le violazioni dei diritti umani da parte di Israele. Abunima ha ragione. I media hanno una grande responsabilità nel modo in cui riportano il conflitto israelo-palestinese. Se i media non saranno imparziali e accurati, contribuiranno a perpetuare il conflitto e a far soffrire ancora di più le persone coinvolte. Vergogna ai giornalisti affamati I giornalisti che presentano una versione unilaterale del conflitto israelo-palestinese non sono solo dannosi, ma anche irresponsabili. Stanno giocando con la vita delle persone, e stanno contribuendo a creare un mondo più pericoloso. Questi giornalisti dovrebbero vergognarsi di se stessi. Non sono giornalisti, ma affamati di denaro e potere. Non si interessano della verità, ma solo di fare soldi e di promuovere la propria agenda politica. Il mondo ha bisogno di giornalisti imparziali e accurati. I giornalisti che non sono in grado di fornire un reporting imparziale e accurato non dovrebbero essere considerati giornalisti. Dovrebbero essere considerati per quello che sono, affamati di denaro e potere. Click to press this. A click to share on telegram opens in new wind.